Dopo lo scorso video che feci riguardo la presunta separazione fra la Sabby Gamer e Anima dove Anima si era sfogato con parole anche molto pesanti sulle sue stories e sembrava palesemente che la Sabby lo avesse lasciato vi avevo aggiornato sulle mie Instagram stories che da fonti certe avevo saputo che questa cosa era sicura ormai ovvero che si erano lasciati quindi per tutti quelli che hanno commentato dicendo che dico cazzate Anima ha fatto prima una serie di stories per sfogarsi ulteriormente dicendo che non ha dormito la notte e comunque è stato molto male per questa cosa sia lui che la Sabby hanno recentemente droppato un post sui loro profili con delle foto vecchie di loro due insieme spiegando che appunto si sono ufficialmente lasciati dove Anima stesso ha fatto anche una linea sul fatto che inizialmente si spacciavano come cugini e sembrerebbe che la cosa sia rimasta in buoni rapporti nonostante la sofferenza che ha provato Anima in questo periodo infatti hanno detto che vogliono restare amici quindi vi dico già che i video insieme non mancheranno perché continueranno a farli però non più da fidanzati quindi che dire ragazzi è stato veramente un bello shock perché comunque è una coppia storica di YouTube Italia sono fidanzati da oltre 4 anni fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate di questa separazione se ci siete rimasti male oppure no noi ci vediamo in un prossimo video linea allo studio